Cerimonia di Enrico Onsegna ieri in occasione del primo giorno di scuola del liceo scientifico Temistocle Calsecchionesti di Fermo, riqualificato e adeguato sismicamente. Con questa giornata che poi coincide con il primo giorno di scuola 15 settembre 2021, noi diamo il via a quelle che saranno le celebrazioni per gli 80 anni della scuola. Lavori lunghi ed importanti che in oltre un anno e mezzo hanno visto parte delle classi dello scientifico ospitate al Fermo Forum, in un periodo difficile come quello del Covid in cui far coesistere cantiere e scuola ha rappresentato non poche difficoltà. Abbiamo condiviso con i ragazzi, con i docenti, il personale Ate e le famiglie i sacrifici, quindi un'organizzazione che naturalmente doveva tener conto della presenza del cantiere e delle misure Covid, ma fortunatamente c'è stata grande collaborazione da parte di tutti, non solo il personale scolastico ma anche le famiglie e gli studenti. Ad allietare la festa il coro polifonico composto da allievi ed ex allievi tornati appositamente a scuola per l'occasione. Il coro del liceo TCO è nato circa 13 anni fa, condotto sempre dalla professoressa Moschella Carmelina, direttrice, la quale ha iniziato con un piccolo gruppo per trovarsi poi negli anni a gestire invece un nucleo sempre più numeroso. Il sisma del 2016 non aveva danneggiato il liceo scientifico che necessitava tuttavia di un adeguamento sismico, che oggi lo vede con un coefficiente dopo i lavori pari ad uno. Il progetto è stato finanziato da ogni fondi sisma. I lavori hanno riguardato essenzialmente l'irrigidimento e l'irobustimento della struttura portante in cemento armato. Quindi sono stati creati nuovi setti portanti che hanno la funzione prevalente di assorbere il sisma, le forze sismiche, e lo stesso il potenziamento e il rafforzamento dei pilastri che avevano una malta non troppo resistente e delle armature insufficienti. Poi con ulteriori fondi, Covid, che abbiamo avuto, sono stati fatti dei lavori di sistemazione della palestra che abbiamo qui alle spalle, quindi una sistemazione per una parte del tetto e poi delle sistemazioni interne, rifiacimenti di intonaci per il pavimento e delle finestre. Sempre con fondi Covid provinciali sono state fatte poi delle finiture esterne che riguardano l'abitumatura di tutta la pertinenza dell'edificio.